Non so più come dirvelo, tutte le catene che girano su Facebook sono delle bufale, 100%. E' bastato il Facebook down di ieri, cioè è bastato che crollassero, non si sa bene cosa sia successo, ne parleremo. I server di Facebook, di Whatsapp, di Instagram e hanno cominciato a girare le bufale. Bufale incredibili, mi sta arrivando la qualunque da stamattina dove dice che il messaggio è questo messaggio è per informare tutti i nostri utenti che i nostri server sono stati molto occupati ultimamente, capito? Ultimamente, miliardo e duecentomila account, ultimamente. Quindi ti chiediamo di aiutare a risolvere questo problema. Chiediamo utenti attivi per renderezzare questo messaggio a tutte le persone nella vostra lista di contatti al fine di confermare utenti di Facebook attiva se non invia questo messaggio a tutti i contatti su Facebook e il tuo account rimarrà inattivo con il risultato di perdere tutti i vostri cont. Già il fatto che il messaggio non sia in italiano, ma sia evidentemente tradotto malamente, dovrebbe farvi capire qualcosa. Quindi se c'è un enorme sovraccarico dei server di Facebook, voi mandate mail a tutti e che li sovraccarichiamo ancora di più e sicuramente funzioneranno. Poi c'è il biscottino finale, no? Dice sposta questo messaggio. Sposta questo messaggio, cosa vorrà dire? Lo smart verrà aggiornato entro le prossime 24 ore e avrà un nuovo design, un nuovo colore per la chat. Cioè secondo loro, se mandate questo messaggio, lo smartphone viene aggiornato. Ma chi l'ha detto? Per aggiornare bisogna andare su o Play o iTunes e cliccare e aggiornarlo. Cari utenti di Facebook, aggiorneremo su Facebook dalle 23 fino alle 5 di oggi. Non si sa quando. Se non lo invii a tutti i contatti, l'aggiornamento verrà annullato e non avrai la possibilità di chattare con i tuoi messaggi di Facebook. Santa Polenta, non potrai più chattare con i messaggi... È una stronzata. Cioè io non so come dirvelo. Non riesco a capire come mai possiate credere che queste cose siano vere. Cioè non ha nessun senso. Non ha nessun senso per come funziona internet, per come funziona il mondo dei computer, il telefonino. Non è vero. Niente. Fate una bella figura. Ora non mandate questi messaggi, perché tutte le volte che mandate ad una persona intelligente un messaggio così, è qualche punticino lo perdete. Perché vuol dire che non state usando il cervello. Il cervello va tenuto inserito, va letto quello che c'è scritto, va capito. E va capito che non è vero. Comunque, senza usare il vostro prezioso cervello, sappiate che sono tutte bufale. Tutte finte. I bambini in fin di morte, le ricerche di sangue, il midollo spinale, con aggiunta dei clic solo chi ha i capellini, sono tutte bufale. Figuratevi questi messaggi che vi chiedono di replicare messaggi, quindi di far diventare mostruosamente pesante il traffico in internet per risolvere il traffico in internet. Per favore. Basta. Vi prego. I beg you. Never.